Salve a tutti gente e bentornati qui a un nuovo episodio di Jade Empire. Dunque, nella scorsa parte siamo finalmente avuto una battaglia scontrosa con il caro e vecchio Mano della Morte che abbiamo liberato e noi adesso siamo sempre qui in giro con questa stupenda Aureola. Dunque, direi che siamo nella quinta prima della battaglia. Dunque, cominciamo a parlare un po' con i nostri personaggi, vediamo che cosa ci diranno. Oh, mamma mia! Assolutamente no! Niente romance, amico mio? Distorgerò tutto ciò che ci intalcia nel cammino, non esageriamo. Alcune di queste decisioni sono state difficili da prendere. Oh, in che senso mi aiuterai? Quando la corruzione sarà estirpata all'Impero di Giada sarà solo una landa desolata, amica mia. Eh, purtroppo sì. Eh sì, praticamente lo stiamo distruggendo. Preparati, presto ce ne andremo. Effettivamente non ci abbiamo pensato. Nel momento stesso in cui ribelleremo e aiuteremo il drago, finirà tutto in merda, perché hanno rubato acqua e altro per un sacco di tempo. Quindi ci... Cioè, sarà un casino. Mi spiace. Prima di essere diventato uno. Tutti rispetteranno il mio potere. Ho dovuto prendere delle decisioni difficili per arrivare fin qui. Tranquillo. Ah, questo non lo faremo. Stai tranquilla. Preparati, ti avverterò quando saremo pronti. Bene. E poi passiamo a te. Eh no, direi di no. Eh, sicuramente lo faremo, ma continuo a pensare che tu sia sua figlia. È stato terribile prendere alcune decisioni, va bene? Tranquilla. Esatto. Preparatici ne andremo. Sicuramente, avendo scelto questo sentiero. Parliamo con questa bambinetta. Come stai, Fiore di Campo? Finalmente sei tornata in te. Eh, in tutti i sensi. Eh, ci credo. Sono andata nel tuo file, ti ho sistemato. Ah, diventerai una splendida ragazza. Beh, anche tu conti, eh. Comunque, non ti preoccupare. Mmm. Kaicha, che ne pensi di ciò che è successo qui? Sì, insomma, fai quel che cazzo che vuoi, praticamente. Mmm. Fiori di Campo, avverti qualcosa in questo posto? Ah. Credo che tu sia comunque una sensitiva in un certo senso, altrimenti non avresti mai attratto Kaicha. Che cosa orribile. Chi sono? Che affetto ha il sogno? Quindi, praticamente, il drago d'acqua. Esatto. Concentriamoci sui... Assolutamente. E tu cosa pensi? E la miseria, non esagerare. Sane e salvi. Ecco, sicuramente... Capito. Capito. E tu perché sei così lontano? Oh, tranquillo, tizio panda. Andrà tutto bene. Calmami, come io combatteremo. Presto, preparati. Tipo se fossi sempre ubriaco, come una mucca? Come sarebbe... Con le gengive? Ok, ho parlato con tutti. Direi che quelli... Andiamo con Kang. Perfetto. Sono pronta a partire, Raduna. Tutti al veivolo. Beh, ho parlato un po' con tutti. Andemo. Ok, se vola, ragazzi. Andiamo. Corriamo. Ah, siamo tornati al palazzo che vola. Quello di Hall. Solo in versioni cilindie. Molto bene. Che non è Erra, però, come... Non è un castello in mare. Allora, ragazzi. In questa parte vi porto dietro Stella dell'Alba. Sì, ci sono molte cose che non volevi vedere. Dubito anch'io. Dobbiamo ancora ammazzare un altro membro della tua famiglia. Non ti preoccupare. Tipo, ti ho distrutto il padre. Che però era già morto, in realtà. E tu non manco tenere accorta. E adesso ti ammazzo lo zio. Eh, che ti devo dire. È la vita. Teniamo in alto la guardia. Non è facile come la volta scorsa. Ma che dici, va? Esatto. Tu sei l'ingegnere. Non devi morire. Sicuramente. rispetteremo. La volontà è lo spirito del drago d'acqua? Ah, ok. Assolutamente. Già. Esattamente. Mizzaga, che amore, che vita. Che vita, Kang. Grazie. Che ci portiamo dietro? No. No, mi dispiace, mia cara amica. Non verrai con me. Via, via di qua. Non riesco. Non riesco. Però questo si è bloccato. Non mi sembra così difficile come un'altra volta. Perfetto. Ok. Gemma del guerriero superiore. Andiamo a sistemarci un attimo da qualche parte. Yeah! Schivata! Allora. Andiamo con stella dell'alba. Ovviamente taglierò un paio di parti, ragazzini. Ok, allora. Dobbiamo arrivare fino a là. Eccolo qui. Eccoci qua. Che succede? Oh! Eccola qua. È apparsa. You have come. Destiny set this moment in motion. But from here, your choices are your own to make. Ok. Your master awaits you. But he is not yet aware. You have time to alter things to your favor. You have time to set us all on the path to rebirth. Credo che far sarà quello che farò. Learn what has come before and you will understand what must be done now. Follow into the depths of the world. And see what was done in search of my power. D'accordo. Ed è quello che farò. Spirits know many things. How to assault a fortress does not appear to be one of them. Senti tu, pugno chiuso. Follow her and take someone with you. But whoever you leave behind should take another route. That way they don't get behind you and we'll all get equal fight. Vabbè. Tranquillo. You don't know the palace. You will wander aimlessly. I always wander aimlessly. And I always find my way. Besides, we've been here before. Ok, non c'è tempo per questo. Cercate di trovare la strada come meglio riuscite. Eh già. È la cosa più assurda. It is not a task I wanted, but we have no choice. E non essere così depressa. Stiamo tutti facendo una cosa importante. Coraggio ragazzi. Siamo forti. Siamo... Nello stato giusto. Ok. 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 Quindi siamo qui, perfetto. Andiamo dunque. Allora, dove stiamo andando di bello? Ah, sei ancora tu. Eh esatto, come ho fatto a cambiare l'acqua però? Non c'è... Non c'è... Non lo so. Essi si trovano dal tempo nell'oltre... Essi si trovano dal tempo nell'oltre... Com'è possibile che questo gli faccia male? Perché è stato fatto? Da dove proviene quest'acqua? Eh infatti, non c'è stato ancora spiegato da dove proviene l'acqua. Ma non... Ma non è un'armata. Ho capito. Ho capito. Sì, perché mi stai fissando così intensamente e vai dall'altra parte dello schermo? Va bene, ok. Ok. Ma cosa ti hanno fatto? Allora, immagino che quella forma sia una forma... Ovviamente solo di convenienza. Non può essere proprio un drago lei. Cioè così... Da forma... Oddio, il suo sangue! Vabbè, effettivamente... Adesso che ci pensano... Vuol dire che me l'ero spoglierata? Ero sicura che ero... Mamma mia. Povera creatura... Ma sei in mutande, stella dell'alba? Vabbè, andiamo avanti, va. Non fa niente, dai. Allora, dunque... Dunque, mi sono spoglierata tutto con quell'immagine che avevo scelto. Io ero convinta che fosse una roba del... No, della tradizione giapponese, cinese, qual tanto. Invece no, era proprio del gioco. Ma che cazzo... Eh... Eh... Lo farò. Le distruggerò tutti. Vieni qua. Ah, sono... E li chiede loto. Ah, sono molto potenti, quindi. Non ti permettere. Non ti permettere. Ecco. Già ucciso uno. Vedrete come combatto. Haha. No, merda. Merda. Ma co... Merda. Avrei voluto prendere quello della... Via di qui, via di qui, via di qui. Merda. Merda. Maledizione. Vai. Oh, f***a. Quindi vediamo che cos'è successo. This is what he has done. This is what your masterly allowed. For twenty years my body has bled. Separate from the spirit. Feeding the empire and the emperor. Mamma mia. It is an agony that you cannot fathom to have fallen so far into the hands of men. Rebirth is impossible while this continues. E tutti qui. Vedrai che cosa v... By all the heavens. This... This is not right. God... God's do not bleed. Eeeh. Assolutamente no. Eeeh, vedremo. You small creatures. You heard the sounds of battle, but are you truly prepared? What will become of your world if my kind fall to the same evil that they take you? Tormenta? Cosa intendi? La siccità? Your masterly must be stopped. The empire must find balance without the flow of hard water he has unleashed. Eeeh, vedremo. Diventerà tutto sabbia. Dai, la colpa... Non è stato liberato non smetterti qui. Il tuo spirito sembra forte. Perché non ti sei aiutata da sola? Quest'acqua alimenta l'impero. È per questo che la siccità è cessata. Non so quale sia. Ho capito. Ho capito. Allora, dai, la colpa è lì. Esatto, c'è una domanda che devo capire. Vabbè, immagino che lui abbia chitettato tutto, comunque. Ok, ho capito. Oh, mamma mia. Che pezzo di merda. A quanto pare. Il tuo spirito sembra forte perché... Ok. Eeeh, chiediamolo. E' effettivamente è davvero una bella famigliola quella di Volpe di Seta, eh. Eh, già. È giusto. Cosa credi che possa fare in proposito? E con la minigonna, tra l'altro. Quindi non riesce a fare niente. È in limbo. Ok. Farò ciò che è necessario. Farò ciò che è necessario per ristabilire l'ordine delle cose. Sì, è morto. Praticamente è morto. Ciao, andiamo. Ok, ma perché mi fai fissando così? Eh, già. Troverà una bella sorpresa. Allora farò così. No, questo è il sentiero cattivo. Allora, farò così senza indugio. Ok, andiamo allora. Assolutamente. Lo farò. Oh, scena commovente. Oh, si riunisce al suo corpo. Ah, quello fa girare l'acqua. Ok. E così si blocca. Ok. Lei distrugge il macchinario e lei muore. In realtà speravo in qualcosa di un po' più scenografico. Ma che cos'è questa immagine? Ok. Facciamo finta che questa scena non sia stata rovinata dal fatto che hanno fatto uno zoom sulla vagina di questa. Grazie. Va bene. VVHUD. Ehi là. Ehi là. Ehi là. Felice? Eh? Come va? Grande sta trega. Non l'avevi vista questa cosa, eh? Giustamente. Ok. Perfetto, dunque. Ah, qui immagino che sarei dovuta salire nel caso... Sì, nel caso fosse... Ok, ho capito. Lapide. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Posso parlare con voi? Ok. Neanche io. Eh, sì. Eh, no... Beh, esagerazione. Bello che gli altri due invece non abbiano niente da dire. Dobbiamo ancora assistere all'abominio più grande. No, 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 vado con sé. Assolutamente. Tranquillo. Molto bene. Quindi loro vanno e combattono, praticamente. Beh, ve ne occuperete voi. Nessuno sarà al sicuro finché questa storia non sarà conclusa. Occupatevi di loro mentre io sto e le labbra affrontiamo lì. Vai, andiamo. Molto bene, ragazzi. Io direi di finirla qui. Se vi è piaciuta questa parte, lasciatemi un mi piace, un commento e ci vediamo nello scontro finale contro lì. Yow! Molto bene, ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie.